Dopo una stagione nera, anzi nerissima, bisogna per forza di cose ripartire. Da cosa? Innanzitutto dalla nuova, l'ennesima, rivoluzione sul mercato. È inevitabile, con la squadra in Serie B cambieranno strategie e giocatori. Da due anni a questa parte, il CDA di Viera Delfante contempla delle politiche da attuare per ridurre al minimo le eventuali conseguenze relative alla retrocessione. Le risorse si regge nei verbali, come riportato dalla Repubblica nell'inchiesta del 13 febbraio, si potranno recuperare dalla commercializzazione dei diritti alle prestazioni sportive di alcuni dei giovani talenti di cui è ricca la rosa della prima squadra, che, tradotto al burocratese e al papale papale, significa vendere i giocatori migliori presenti in organico. In attesa di capire chi lascerà la Sicilia, di certo c'è che andranno via tutti i giocatori presi in prestito in comproprietà dalla Monaco nel mercato di gennaio. Una delle grane più grosse riguarda il portiere. Per tenere Sorrentino, il parma deve ancora sborsare al Chievo circa un milione di euro. La Fiorentina, invece, dovrebbe versarne 7,5 mila del Fante per il cartellino di Viviano, che però non ha affatto convinto dirigenza e staff tecnico Viola. E poi c'è sempre il Rebus Suicani, finito al Chievo in prestito con diritto di riscatto della metà nell'affare Sorrentino. Zamparin l'ha difeso strenuamente, i tifosi l'hanno stroncato e l'Albanese sembra ormai bruciato. Ma di giocatori di proprietà del Palermo sparsi per l'Italia e per il mondo ce ne sono veramente tanti, in tutti i reparti. In difesa ci sono elementi validissimi, come i torinisti d'Armiano e Glick, per i quali però è veramente difficile ipotizzare un ritorno a Palermo già in estate. Un altro giocatore già fatto e finito, Mattias Silvestre, non rientrerebbe anche se l'Inter, in cui ha deluso, non deve essere esercitato il diritto di riscatto fissato a 6 milioni. Chi potrebbe avere una chance? Si è invece l'ex primavera Giuseppe Prestia, che questo anno si è fatto le ossa in prestito all'Ascoli in Serie B. A centro campo sono tanti i rebus, da Bacino a Vici a Della Rocca, passando per Vasquez e per gli oggetti misteriosi Lores, Simon e Struna. In attacco con il punto interrogativo legato a Hernandez, che comunque rimarrebbe anche in B per rilanciarsi, il rientro al Wigan di Boselli e i dubbi sul futuro di Miccoli rimarrebbero i soliti Bala e Sperduti. In prestito ci sono Budan, Mehmeti e gli ex primavera Cara Martinez e Sosa. I primi due potrebbero certamente tornare utili alla causa, per gli altri una cessione non susciterebbe certo scalpore. E nuovamente è tempo di riprogrammare in Casa Palermo. Quasi una routine da qualche anno a questa parte, a cui però i tifosi non riescono ad abituarsi. Per il futuro si chiede solo la continuità di un progetto. Un nome astratto, ma molto più utile di 5 campioni. Il Palermo avrà imparato la lezione. Grazie. 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 Grazie.